Il pittore castellanovese Gino Bertoncini Incontrare il pittore castellanovese Gino Bertoncini significa calarsi nella storia dell'arte della Garfagnana. Entrare nella casa di Santa Lucia è come salire in un museo di grande valore culturale. Rivedere la Garfagnana scomparsa o mutata dal tempo è scoperta magica e preziosa. Il vero e proprio maestro è punto di riferimento per numerosi giovani pittori, Gino Bertoncini, classe 1930, inizia a dipingere molto giovane tra il 1946 ed il 1947. Frequenta da giovane la casa del professor Suffredini, lo storico direttore della Garfagnana, dove la moglie e la professoressa consorti dava lezioni di disegno e tecnica di pittura. A quel periodo risalgono in molti lavori studi su volti familiari, amici e su parti anatomiche, mani, busti, che sono conservati nella casa in Santa Lucia. Poi, compatibilmente con il suo mistero di professore d'italiano nelle scuole del capoluogo, Bertoncini inizia a assaggiare sul terreno le lezioni imparate. E in Marigliana, dove abita la nonna, diventa il suo studio a cielo aperto ed escono i primi paesaggi garfagnini, vitrei, fotografie quasi bruciate, scolorite del tempo che fu. E Bertoncini in questo è maestro. Aver dipinto la nostra terra senza dare la possibilità all'ammiratore delle sue opere di ben definire le stagioni a un carattere forte del proprio pennello. E se lui stesso definisce l'opera come autunnale, in realtà risulta sospesa, come se la Garfagnana fosse un non luogo artistico onirico. Ispirato a Morandi come grande maestro bolognese, Bertoncini non si lascia attrarre troppo dalla corsa del futurismo e neppure dal cubismo, e segue invece la cultura del tratto e come Morandi dello studio delle nature morte. Gino Bertoncini conserva nella sua casa museo centinaia di opere a olio, la tecnica da sempre preferita, a carboncino e a matita. Paesaggi di Marigliana, di Castelnuovo, la porta a vice e la Iara, di Cerretoli, tanti metati e case contadine dagli anni 50 arrivati intatte ad oggi. Ma anche ritratti di Garfagnini, nature morte e autoritratti. Il primo è del 1947. Il suo studio è segno di una passione, ma anche offerta per nuove generazioni, di una cultura che sgorga dentro e che poi ti assorbe e ti coinvolge, come una malattia sana per tutta la vita.